e benvenuti anche in questo episodio nuovo di metroid ok va bene me la faccio a nuoto poi mi sa che qua muoio oh eh però non ho il gancio al momento dannazione ne ho comunque in qualche modo ok prova a buttarmi a questo punto ok non funziona vai di là corri di là dai dai sono fatta ok Samus e nel settore 2 c'è una probabilità di salvare qui bene di prendere la natura ah ok qua non devo andare più avanti di così quindi posso lasciare questa area meno male e qui facciamo un po' troppo caldo per i miei gusti e poi dico ho avuto già una battaglia boss qua direi basta no ok andiamo al settore 2 a quanto pare non posso eh di nuovo questo coso corazzato a rompermi le balle perché una volta non vi è bastato dai alzati beccato beccato vai così allora oh beh almeno questo è stato un po' più duro da battere ok settore 2 arrivo quando scommetto che in questo settore 2 c'è il ghiaccio perché prima la foresta poi la lava adesso il ghiaccio giustamente vabbè infatti infatti l'azzurro raga dice tutto questo Infatti c'è il ghiaccio Vabbè Suppongo che qui il Raggio congelante Non serva A meno che io voglio fare Dei ghiaccioli Ma qui proprio Non c'è bisogno Bene Sono una vera grazzale Qui è Soprisa Bene Anche qui pulizia Dai insetti Quando si inizia il tempo da lupi Ecco appunto Mi attaccano dei lupi Tipo mammut Più o meno Lupi mammut Ecco Vabbè il ghiaccio serve A meno lì A meno Li brocco E stai Accuzza Bello Ti metto Accuzza Io Polvere di diamanti Sistemato Ok Non mi è ancora notato Questo Questo aspetto Di serpente Ok Non so se è stata una buona idea Ho dato un potenziamento E non posso prendere Non so neanche il perché Mi sa che lo compito Ripetitamente Sì Infatti Bene Ora mi sa che posso prendere Il potenziamento Che c'è qua Bene Altro osservatorio Di missili Anche se Più che i missili Vorrei più la vita Si fatica Di salire Dentro l'acqua Ma che c'è Io odio Quando vengo Spinto in acqua In qualsiasi gioco Quando succede Lo sbaglio E finisco in acqua So che anche voi E' una notte Anche per voi E' un odio Questo Infatti questo Non fa nulla Vabbè Meglio così Perché una volta C'è un Un mostro in acqua Quello devo Per forza uccidere Mi sa che il boss Si sarà qui Un mammut Noo Ma Mai dire mai Però Ok Puntare Caricare Fuoco Ah un altro Oh cavolo Questa è stata Un'attacca sorpresa Stato Si vedono i pesci Sotto Che Bello Che sei Guarda Una Spese Di pesce Più o meno Cavolo Aspetta Sali 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 Ok Carica Ok Bestione Fatti Sotto ti metto il di dietro guarda cavolo come l'ho mancato ok a terra quasi fatto io quello di una maschera ha l'ho ucciso ok non ben visto molto bene come l'ho ucciso ma a chi se ne importa l'importante è che avrebbe eliminato quella specie di pesce toro di corrida più o meno ok ok ragazzi direi che per questo episodio è tutto e ci vediamo la prossima ciao